A reaccio e faccio a modo mio, frate. Ma questo c'è problemi a modo suo. No, Rubino, no! No, Rubino, non dire che nelle colli c'è problemi a modo suo. Perché se lo diciamo di te, ti metti a piangere tutto il giorno e fai poi il bulletto. Oh, ma che sta a di? Io tengo problemi a modo mio? Sì, Rubino. No, ti posso assicurare che su certi concetti hai più problemi tu a modo tuo che nelle colli, fidati. Ma non diciamoglielo, perché Rubino può dire tutto sdraiato sul letto. E l'uovo ciccio gamer 89 con le raga di Annali sgravato che gioca a crescioialgo e bambini. Regà, c'è il buco del culo palato, giochiamo sdraiati con le raga di me sopra dalle fistole, ragazzi. Vabbè, tralasciamo. È il massimo, sì, Enrico. Mi scusa. Dopo che c'è i problemi a modo suo. Sempre la sorella, mamma mia. C'è proprio... Io non c'ho parole per sto essere. Questo essere. Non ha parole per sto essere, che su molti concetti è superiore a Rubino. Oddio, per essere in grado stiamo equivalendo. No, Rubino è più in grado. No, mi piace dire la verità. No, Rubino è molto più in grado su questo. Sembra Snorlax. Piano, Mattia. Sono umano. Cos'è che ha detto? No, Rubino. No, Rubino. È vero. È umano. Essere umano. La seconda volta che stava. È umano, è il titano che ride. Mi affondano su me. Mi fondono odio e falsità su me. Ma sentite la spiegazione, ragazzi, perché è incredibile. Beh, sentite la spiegazione. Però... Potrebbe avere ragione il cerbero, eh. Non lo so. C'è vuole fatto nudo? Ah, sì, me lo ricordo. Sì, me lo ricordo. C'è vuole fatto nudo. Eh, dov'è il problema? Vomito. C'è vuole fatto nudo. Vomito più totale. No, eh no, eh no. Allora vedi che ha ragionato le colli. Ma come si permette David Rubino a dire vomito più totale? Quando lui dà vestito è vomito più totale. Cioè, preferisco vedere le colli in posa nudo, che è migliore sicuramente, di David Rubino, che secondo me David Rubino dà vestito e vomito più totale. Cioè, David, cerca di capire che dà vestito, con qualsiasi marchio, sei vomito più totale, secondo me. Preferisco le le colli. Nudo, onesto, che non ha problemi col suo corpo, capisci? E quindi vuol dire che è una persona almeno sana, non si vergogna di essere un essere umano, capisci? Vomito più totale. Poi gli dice Rubino, ah, regà, non me ne frega niente, tutto che trema. Minchia, David, ma vai a fare in culo, vai, va davvero. Ma c'ha ragione Lele, allora, cioè. No, ascoltiamo, Alexander. A me, Alexi. Però c'è questa cosa, non so. Mi mandavo su un gruppo del Cerbero. Io me le trovavo sempre a caso nel telefono. Beh, allora, ma allora non seguite le persone, me le trovo a caso nel telefono. Non te le trovavi a caso. Se tu fai i segui, vedrai i feed di quella persona. Le cazzate, me le trovo a caso. La colpa è vostra, non seguite chi non gradite. Mentre grazie come l'avete suggerita, perché davvero... No, 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 no. Grazie.